Col bacco cecoslovacco, ex repubblica socialista di Cecoslovacchia, dotazione militare, fabbricato intorno alla fine degli anni 80, pelliccia esterna sintetica, tessuto impermeabile, cotone del tipo pelotenda molto resistente, impermeabile, laccetto per agganciarlo sulla parte superiore con bottone, rovesciabile, poi lo stesso bottone viene agganciato in queste asole, ha due possibilità di regolazione, una e due, prodotto solido, robusto, resistente e semplice, materiali molto buoni, cucito fittamente internamente con cuciture trasversali, all'interno troviamo delle scritte con l'anno di produzione, la doppia spada indicante la proprietà dell'esercito cecoslovacco e la taglian 60, morbido, facilmente lavabile, ben portabile, costruito in maniera molto semplice e spartana, tipico di tutti gli equipaggiamenti ex Unione Sovietica, ex Patto di Varsavia.